e benvenuti a tutti amici cripto curiosi play dodge sarà effettivamente il prossimo token a poter fare dei game come abbiamo visto per arte presale soprattutto per dodge verse ragazzi che è riuscito a fare quasi un per due dal momento del suo lancio lo andremo a vedere in questo video interessante perché è riuscita anche a raccogliere più di due milioni e 500 mila dollari quindi stiamo sull'occhio del ciclone ragazzi andiamo a vedere un pochettino che cos'è play dodge e se effettivamente potrebbe esplodere quando verrà listata o meno detto ciò amici vi ricordo attenzione alle pre sale a tutti i rischi associati alle pre sale perché stiamo in fase di pre sale e non c'è nulla di sicuro naturalmente hanno una roadmap molti dei delle pre sale che abbiamo visto sono state come dicevo prima effettivamente listate alcune hanno fatto anche dei numeri ragazzi possono essere delle opportunità però naturalmente questo non è assolutamente un video per spingere le persone a comprare play dodge comunque se volete andare a dargli un'occhiata ragazzi vi lascio il link ufficiale qui sotto attenzione che ci sono numerosissimi scammi in volta che vediamo queste prese è qui quindi andiamo a parlare un pochettino di play dodge ma vi volevo far vedere dodge verse ragazzi perché ne avevamo parlato un periodo nel mio canale effettivamente questo token è stato listato ok è stato listato poi qualche giorno fa ok quindi stiamo parlando di ieri in sostanza ok ieri si poteva fare il claim all'interno del sito quindi chi aveva partecipato alla pre sale potrebbe fare il claim dei token ricevere i token e qui abbiamo il grafico ragazzi stiamo sull'orario naturalmente di dodge verse come vediamo nel momento del lancio comunque sia è riuscito nel primissimo momento del lancio comunque si è stato lanciato poi ha avuto un dump comunque sia come ben vediamo qui un dump notevole e poi è riuscito a totalizzare dai minimi un 139 per cento allora che cosa sta facendo questo token ragazzi sta effettivamente andando a formare naturalmente delle consolidazioni sul prezzo e quant'altro e c'è stato l'ultima rottura se andiamo a a fare una piccola analisi tecnica all'una di questo pomeriggio sembra che stia naturalmente cercando di riprendere un trend in positivo però naturalmente abbiamo poco siccome lo storico è poco non possiamo andare a fare delle analisi super accurate del prezzo però volevo far vedere in sostanza abbiamo avuto un segnale short qui riguardo lo stocastico però comunque sia questo è quanto riguarda dogevers che effettivamente è stato listato stiamo parlando di un token multi chain di quasi 30 mila follower sulla loro pagina ufficiale x come ben vedete qui ci sono gli annunci relativi ai claim al listing e quant'altro e qui naturalmente la presale era scaduta nella giornata del 3 giugno ok come ben vediamo qui play dodge focalizziamoci su play dodge ragazzi perché effettivamente in pochissimi giorni pochissimi giorni è riuscito a totalizzare un più 2 milioni e 500 mila dollari in pre sale vi ho fatto un video otto giorni fa ragazzi appena uscì questo token eravamo a 272 mila dollari otto giorni fa in soli sette giorni in più è riuscito praticamente a raccogliere veramente molto allora andiamo un pochettino a vedere ragazzi vi dico subito è un gioco play tour dove effettivamente si potranno andare a guadagnare di token play stiamo parlando il token play in sostanza un gioco stile tamagotchi anni 90 qui abbiamo la sezione preselle naturalmente possiamo partecipare in bnb usdt card che io sconsiglio sempre naturalmente collega al wallet possiamo collegare wallet connect best wallet metamask coinbase eccetera oppure compra con i tiri in sostanza molto semplice ragazzi facilissimo se uno se sempre se uno vuole partecipare ricordando tutti i rischi associati abbiamo una selezione una sezione stake dove possiamo andare a mettere in stake i nostri token ad ora ci sono un più 165 milioni in stake ad ora le rewards per percentuale sono diciamo molto alte stiamo parlando di 114 per cento naturalmente le rewards rate è dinamico quindi in sostanza più token vengono messi in stake di solito e più la percentuale si abbassa comunque sia qui possiamo andare a fare il claim dei nostri token stake eccetera 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 quindi abbiamo anche la sezione stake qui abbiamo la roadmap ragazzi naturalmente siamo alle prime fasi e nell'ultima fase ci sarà il rilascio dell'app di play dodge poi il lancio dei minigames completi a ridrop per la community e listing sui checks maggiori quindi ragazzi effettivamente le uniche cose che possiamo andare a guardare sono gli audit ok a un audit di solid proof quindi possiamo andare a vedere l'audit e il white paper eccetera le uniche cose che possiamo andare a guardare guardare sono queste in sostanza la pagina su hicks che ad ora 2231 follower naturalmente stiamo parlando di un token lanciato effettivamente quasi una settimana fa questo è come dovrebbe essere il gioco in sostanza e qui abbiamo anche la possibilità qui hanno messo l'annuncio comunque sia che hanno superato i 2 milioni e 500 mila dollari e qui naturalmente ci ci sono varie schermate di come potrebbe essere il gioco qui abbiamo i bonus passivi sul token play e eccetera 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 e qui in sostanza ecco qui qui ci vanno a mettere una sorta di doge super mario bros e quant'altro comunque seguite la community twitter se volete sapere qualcosa in modo ufficiale e ritorniamo sul sito andiamo a vedere la token omics abbiamo riguardo la prevendita il 50 per cento della distribuzione stiamo parlando di 9 miliardi e 400 mila token 400 mila play ok 9 miliardi e 400 mila play in totale allora il 50 per cento per la prevendita 20 per cento ricompense per la community 11,5 per la liquidità 20 per cento al marketing 12,5 fondi del progetto il 6 per cento destinato allo staking molto importante anche andare a vedere la token omics e quant'altro qui sotto abbiamo tutte le domande che cos'è play dodge dove posso scaricare play dodge sarà disponibile per il download su google e apple store ospiterà il nostro gioco per animali domestici virtuali di prossima generazione un gioco d'avventura 2d di stile arcade retro a 8 bit e qui abbiamo tutte le domande del caso comunque sia ragazzi sito veramente carino anche molto originale diciamo che vedevamo queste grafiche negli anni 90 sì però effettivamente ad ora diciamo hanno riesumato un po' lo style di quei tempi detto ciò amici fatemi sapere nei commenti se la conoscevate se la state vedendo se la state visionando se avete intenzione di partecipare quindi andare a comprare dei token play fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto cosa molto importante qui sotto nei commenti detto ciò amici io vi saluto qui ci vediamo al prossimo video ciao a tutti